Altra amichevole per la Castellanzese, sotto il sole cocente al centro Bellini, i neroverdi ospitano la Sestese. Avvio da sogno per la squadra di Scalise, subito avanti dopo 4 minuti. Pastore ispira l'inserimento di Mandelli e il capitano della Castellanzese non sbaglia solo davanti a Ferrara. 1-0 e abbraccio collettivo per il capitano neroverde, i padroni di casa non staccano il piede dall'acceleratore. Corner dalla sinistra, sponda di Bernardi e Sassaro da due passi non sbaglia insaccando il gol del 2-0. Due gol in pochissimi minuti, anche Melosi si fa sentire con i suoi ragazzi per provare a scuotere la Sestese. Ma la musica non cambia e sul corner la Castellanzese giganteggia ancora Sassaro a rendersi pericoloso, stavolta il numero 33 colpisce la traversa che ancora trema. Gli ospiti non riescono a reagire, si vedono con alcuni scambi facendosi però pizzicare in fuorigioco mentre la Castellanzese è sicuramente più cinica. Cross dalla destra da parte di un pastore ispiratissimo e girata di prima intenzione di Vitali che segna così il gol del 3-0 al minuto 24 del primo tempo. Castellanzese che sfida sul tappeto rosso, Sestese troppo brutta e probabilmente molto imballata. L'errore di Priori ispira il tiro di Arrigoni parato da Ferrara. Finale di frazione in cui si vede maggiormente la Sestese. Giardino prova a creare scompiglio sulla destra ma non riesce a impensierire spada. Il portiere di casa è ugualmente attento sulla punizione di Siano che crea qualche grattacapo in più. Anche tanta sfortuna per la Sestese. Tocco sotto di Marcone, palla che colpisce, palo e traversa per poi tornare in campo con le immagini nella ripresa. Castellanzese che torna all'attacco. Pastore impegna Chierchi su punizione. Il poker è nell'aria. Arriva subito dopo rubata di Boccadamo e Pastore si inventa questo gol dimostrando che il Bellini è terreno amico della Castellanzese. Anche Vavasori aveva fatto un gol del genere alla prima uscita contro l'Arconatese. Portiere fuori dai pali. Il numero dalla distanza. 4-0 il risultato che non cambierà più. Mentre si omaggia Pastore la Sestese prova a reagire con alcuni palloni messi dentro e poi con una diagonale di Siano che però va a lato. Ma gli ospiti ci sono. Aiolfi prova a essere fattore di testa sfruttando il cross dalla sinistra. Meglio però la Castellanzese che dialoga ed esalta anche i più giovani che però non riescono a trovare il pokerissimo soli davanti al portiere. Finale di frazione esaltante. La Sestese va vicina al gol con un cross dalla destra. La Castellanzese lo troverebbe il gol con Bigotto ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Poco male. L'ultima chance della partita è il colpo di testa di Aiolfi con una gran parata dell'esordiente Bulaukin. Poi il triplice fischio finale del direttore di gara. La Castellanzese archivia con un poker l'ostacolo. Se stese. è stata il progetto.